Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Abbiamo uno standard di sicurezza medio alta, però come ho già detto, attenzione perché gli hacker hanno attaccato il Pentagono, o come si dice in gerga hanno bucato anche il Pentagono. Noi comunque siamo attenti, abbiamo alzato la guardia, ci siamo incontrati all'interno dell'AS, in più c'è una tax force regionale con la quale ci incontriamo quasi ogni sera alle 6, un giorno 6 e un giorno no. Dopo l'attacco hacker alla ASL 1 dell'Aquila, l'attenzione è massima a Pescara per verificare l'eventuale diffusione di dati sensibili sul web. I controlli e i confronti nell'azienda sanitaria vengono effettuati ogni sera, precisa il direttore generale Vincenzo Ciamponi, per evitare pericoli, anche se, sottolinea, la situazione è delicata. Attenzione a Massimo, livello alto, il Presidente Marsilio ci guida in questo perché ha voluto creare questa tax force e con la quale ci si incontra ogni giorno per confrontarci e per verificare eventuali livelli di criticità.